Vi siete mai chiesti come professionisti o creator fanno il backup dei loro file? Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video questo nuovo video che vuole essere molto ma molto specifico e tecnico mi sono reso conto, dando uno sguardo nel panorama che c'è attorno a me e sul web che in molti che non siano professionisti e che ne abbiano un'estrema esigenza non sanno come si archiviano i file, in verità anche tanti professionisti non lo sanno fare come si archiviano i file, come si conservano, se ci sono delle catene di sicurezza per i vari file insomma tutto quello che gira intorno alla conservazione perché i professionisti audio video dopo aver registrato clip o scattate fotografie hanno la necessità di farne qualcosa con questi file cosa nello specifico? prima di raccontarvi la mia esperienza e quello che io faccio nell'ambito della post-produzione per il cinema vi faccio raccontare da alcuni colleghi, creator e professionisti qual è il loro metodo per archivare i file qual è il loro workflow? allora, in realtà mi piacerebbe raccontare quello che è il mio workflow con i file però mi tocca raccontare tutti i workflow con i file perché dipende un po' dalla situazione allora, per quanto riguarda me, i miei contenuti in realtà non ho un problema di questo tipo sia sul canale di Mario Palladino sia sul canale di Sinergo, cosa dell'altro cinema io non salvo nulla cioè monto i miei video li carico e una volta caricati elimino sia i file originali che il file montato quindi non rimane nulla è tutto su YouTube se domani mi cancellano il canale io perdo tutto e sono un pirla ok? quindi succede sostanzialmente questo però tanto gli utenti di YouTube i video non li riguardano quindi fa niente mentre per quei due sul server le cose cambiano non uso file così pesanti perché qui giro con C70 o magari con la mia Fuji X-T4 la C100 Mark II che utilizziamo per quei due sul server noi la usiamo molto spesso impostata a 17 MB quindi un bitrate molto molto modesto che ci consente di avere dei file leggerissimi ora abbiamo un ecosistema più grande con quei due sul server e quindi utilizziamo il nostro drive per caricare tutto il girato e mandarlo ai nostri collaboratori quando c'è bisogno poi abbiamo un NAS in studio ma che utilizziamo prevalentemente per i videocorsi tra l'altro il NAS l'abbiamo attivato una settimana fa erano anni che ce l'avevamo ma siamo andati avanti sempre con i cari vecchi hard disk e i vecchi sistemi di archiviazione sostanzialmente il NAS l'abbiamo attivato da poco perché la mole di girato sta cominciando a diventare abbastanza insostenibile e dobbiamo attingervi tutti quindi abbiamo deciso di fare anche questo generalmente noi per cui due sul server organizziamo le clip in maniera testuale durante la fase di ripresa quindi segniamo il numero della clip una breve descrizione di quello che contiene perché così tre ore dopo quattro ore dopo quando vai a scaricare i filmati non brancoli nel buio e poi dividere tutto in maniera abbastanza serena in cartelle altrimenti dovresti stare a controllare ogni singola clip abbiamo un minimo di segreteria di edizione mettiamola così che comunque secondo me è il primo passo per archiviare le cose in maniera sufficientemente ordinata e organizzata per quanto riguarda i contenuti invece lavorativi di stampo aziendale quindi andiamo a vedere tutti quei lavori che magari vai a girare in RAW vai a girare in ProRes e che occupano molto di più anche se di solito sono brevi essendo per la maggiore spot e campagne web noi ci appoggiamo al classico sistema di hard disk abbiamo sempre un sistema ridondante quindi un hard disk sul quale mettiamo tutto il girato e poi una copia esatta di questo hard disk che viene svuotato soltanto alla fine del progetto mentre il primo hard disk resta sacrificato al demonio quindi è quel progetto noi lo sappiamo rimane lì non lo tocchiamo mai più e dopo due anni lo formattiamo lo cancelliamo magari lo riutilizziamo per cose diverse però teniamo tutti i progetti almeno per un paio d'anni quello che ci teniamo per sempre invece è il montato e i vari livelli del montato quindi abbiamo il montato video quindi abbiamo un bel ProRes fatto come si deve alla massima risoluzione senza audio senza nulla solo il video poi abbiamo la traccia con le voci o con il voice over poi abbiamo la traccia dei suoni e poi abbiamo la traccia della musica quindi il nostro progetto finito non è altro che una traccia video e poi divisa per compartimenti diciamo così tutte le varie tracce audio questo è quello che rimane di un progetto molto vecchio in casa nostra quindi abbiamo modo magari un domani di rimontare di modificare di spezzettare di cambiare il voice over di cambiare le musiche però generalmente non succede mai non succede quasi mai può tornarci utile per fare un reel può tornarci utile per mostrare a un cliente qualcosa che abbiamo fatto in passato però non ci è mai capitato di dover rimaneggiare qualcosa anni dopo e di questi tempi con le campagne web che cambiano ogni due mesi si adattano seguono le tendenze è praticamente impossibile che si torni al modus operandi di due anni prima lo facciamo per paranoia la gestione dei backup è troppo spesso trascurata dai creator che iniziano a preoccuparsene o quando perdono dei file o quando hanno delle commesse magari dove ci sono insomma delle regole ben precise a me è successo molte volte di perdere i file in oltre 30 anni di archiviazione di contenuti digitali a partire dai floppy disk quelli morbidi poi quelli rigidi i vari cd dvd omega zip insomma ne ho provate di cotte di crude e sono cose che si rompono insomma può succedere di perdere dei dati quindi l'importante avere una politica quindi un workflow strutturato in modo tale da avere delle unità di ridondanza e quindi evitare appunto che quando si rompe qualcosa perdiamo definitivamente dei contenuti allora il mio workflow attuale che è stato ultimato e messo a punto diciamo negli ultimi quattro anni così come attualmente comprende innanzitutto un ssd collegato direttamente al computer io lavoro in ambito in ambiente mac ma comunque tutti i rischi che utilizzo sono prevalentemente formattati in xfat per lavorare anche con windows perché ho anche delle macchine con windows però di base diciamo questo disco ssd nello specifico da 4 terabyte collegato direttamente al computer che mi gestisce tranquillamente sia i file insomma che scarico ma anche durante la produttività durante il lavoro io utilizzo prevalentemente da vinci resolve per il montaggio video e poi vabbè lightroom quello che capita insomma per il comparto foto comunque dicevo questo mi gestisce anche file pesanti in raw senza problemi quindi ho la possibilità di lavorare velocemente anche di scaricare i contenuti velocemente che è molto importante però da solo ovviamente non dà nessun tipo di sicurezza per cui ho un secondo disco questa volta un hard disk normalissimo meccanico collegato sullo stesso computer è sempre collegato ma di norma è disattivato poi ho un software che fa il backup si chiama carbon copy cloner che ho configurato in modo tale da fare una copia a carbone ogni notte in modo tale da poi disattivare questo disco e io non lo vedo mai ma so che è lì so che con un click lo posso attivare e ho esattamente la copia alla notte precedente di tutti i dati ma questo non basta ancora e quindi da qualche anno ho attivato Dropbox Business quindi è un sistema Dropbox sicuramente lo conoscete che funziona inviando dei file online conviene avere ovviamente una buona connessione se sono file piuttosto impegnativi quindi quando termino un progetto quindi non in fase di lavorazione che sarebbe uno stilicidio lo mando e poi lo cancello dal locale grazie alla funzione Smart Sync ora Dropbox in realtà non è un sistema di backup inteso in questo senso però grazie a Smart Sync nella versione Business in caso ci sia anche una versione precedente non so cosa comunque ti dà la possibilità di dire questo file una volta caricato non me lo fare più vedere in locale o fammelo vedere ma non occupare spazio in locale quindi ce li ho quei dati sempre a portata di un click ma ovviamente anche questo non basta in certe volte scaricare un file diventa complicato insomma ho anche un altro sistema che è un DAS quindi l'equivalente di un NAS ma direct quindi collegato direttamente al computer con un cavo USB peraltro un cavo molto lungo perché l'ho voluto un po' distante dal mio attuale computer sia perché fa rumore e sia perché insomma se deve succedere qualcosa proprio fisicamente al computer quello sta un po' a sé stante all'interno ci sono 4 dischi da 8TB se ricordo bene per un totale di 24TB usabili perché lavoro in RAID 5 mi pare che la proporzione sia questa ma sto andando un po' a memoria lì vado a copiare i dati una volta terminato un lavoro e successivamente anche quello comunque si riempie 24TB sembrano tanti ma insomma se uno continua a lavorare anno dopo anno con file importanti lato video si consumano in fretta quindi quando poi un progetto diciamo devo liberarlo da quel disco o liberarlo dai dischi collegati al computer quindi non ho più almeno le due tre copie oltre a quello online utilizzo anche dei dischi sparsi di quelli insomma compro dove capita in base al momento dell'offerta possono essere 4TB 6TB 5TB 8TB veramente capita un po' quello che capita in base alle offerte quindi lì vado a caricare un'ulteriore copia poi le etichetto le archivio le metto da parte o una carrellata di questi dischi tendenzialmente preferisco quelli piccoli autoalimentati anche se sono meno robusti se vogliamo ma perché effettivamente ne ho diversi quindi se no sarebbe ingestibile poi lì non devi collegare l'alimentazione e via discorrendo quindi ho questo sistema di base ma quando poi libero i file anche dal DAS e dai dischi da 4TB che dicevo collegati al computer faccio anche un'ulteriore copia di sicurezza su un NAS un NAS autocostruito con FreeNAS credo sia aggiornato adesso FreeNAS ma io quando le cose funzionano non tendo a modificarle più di tanto dove ci sono all'interno 10 dischi con 2 pull ZFS perché all'inizio ne avevo fatto uno solo di 6 dischi poi lo volevo ampliare e lì ho un po' macello ampliare le cose quindi ne ho dovuto creare un secondo parallelo un po' così macchinoso gestire la capienza per spostare i dati da una parte all'altra ma insomma si fa e quindi lì poi ho questa ulteriore copia di sicurezza ovviamente dovete pensare che da SSD al DAS si scende di velocità il NAS si scende ancora di più di velocità in termini di gestione dei file quindi lì metto proprio le cose che diciamo sono dei backup che non penso di utilizzare nel breve termine però con tutta questa filiera sto abbastanza tranquillo attualmente di non perdere niente poi certo una disgrazia può capitare ma speriamo ovviamente un po' di fortuna si deve sempre avere beh spero che sia stato il contenuto interessante è importante per voi grazie e alla prossima ciao grazie Luca per avermi coinvolto in questo argomento che mi sta molto a cuore anzi certe volte mi fa anche salire il nervoso perché se uno è un creatore di contenuti e per contenuti intendo fotografie video ma anche uno che scrive dei romanzi quelle che sono le sue creazioni dovrebbero essere preziose e in realtà invece si dimenticano dell'archiviazione e del backup magari spendono migliaia di euro nell'attrezzatura nella fotocamera nell'ottica ma per un buon paio di buoni hard disk o una soluzione di cloud se la dimenticano del tutto ma tu ci hai chiesto qual è il vostro workflow allora prendo la penna prendo un foglio di carta e ti spiego io molto semplicemente utilizzo una postazione di lavoro un portatile e tutti i miei dati vanno su due hard disk esterni cioè un hard disk 1 e un hard disk 2 il fatto che sia esterno è una cosa importante che vuol dire che ho anche due alimentatori perché dovesse arrivare uno sbalzo di tensione io ovviamente ho un ups che protegge tutta quella della mia attrezzatura ma dovesse arrivare uno sbalzo di tensione che supera l'ups e arriva l'alimentatore ho due alimentazioni separate tutto ridondante che è importante su questi due hard disk uno lo utilizzo proprio per lavorare quindi contiene i dati e l'altro giustamente contiene quello che è il backup una volta al giorno verso le 20 quando assolutamente io sto o cucinando o cenando in mirror quindi una copia identica viene passato dal disco 1 al disco 2 utilizzando un software gratuito che si chiama uranium backup quindi proprio la cosa più semplice possibile però tutto questo si svolge se vogliamo in locale quindi poniamo proprio una situazione di cui fare corna e scongiuri vari non posso mostrare non posso più raggiungere la mia abitazione nelle marche purtroppo il terremoto mi ha fatto capire che questo può anche succedere allora aggiungiamo un passo in più ovvero andiamo a aggiungere qui provo a disegnare quella che è una nuvoletta ovvero il cloud lo sto implementando proprio in questo giorno in questi giorni sto cercando di fare che l'ultimo terabyte un terabyte quindi gli ultimi lavori che sono quelli che devo ancora consegnare una redazione oppure pubblicare su youtube le affido su cloud e sto sperimentando una soluzione particolare che si chiama cabit che chi mi segue sul canale vedrà a breve un video dedicato però ragazzi l'importante è questo con questo concludo mai una sola copia vedete io ho sempre due copie e sto lavorando per avere la terza copia dell'ultimo terra come se fosse l'ultimo miglio da mettere su cloud i dati sono importanti proteggiamoli ciao luca passo la voce giustamente a te beh come avete sentito sono tutte soluzioni molto interessanti alcune abbastanza complesse ed è giusto che siano così e quindi adesso è arrivato il mio turno quello di raccontarvi qual è il processo con cui facciamo archiviazione di file una volta che noi facciamo l'ingest di materiale e lo lavoriamo come ho già spiegato in un altro video noi utilizziamo diverse strutture tutte quante ruotano intorno a Dropbox per la lavorazione dei nostri file dei nostri processi una volta che abbiamo terminato tutta la lavorazione abbiamo consegnato il nostro progetto ci ritroveremo in questa situazione abbiamo su Dropbox tutta la cartella con tutti i progetti su un server quindi un nostro NAS abbiamo tutti i nostri file conservati tutti gli export tutti i file di input dei nostri clienti prima di tutto prendiamo tutti i file che sono su Dropbox facciamo un check con tutti quelli che abbiamo in locale perché come già spiegato noi facciamo un backup in tempo reale di tutti i file che sono presenti su Dropbox facciamo un check una volta che tutti i file corrispondono prendiamo tutti i file che sono presenti in locale una copia di Dropbox dei progetti e la copiamo sul nostro server così che si andrà a creare una terza catena di sicurezza e potremo eliminare quelli che sono i file da Dropbox liberando lo spazio per le future lavorazioni fatto in questo modo adesso avremo la copia in locale su un hard disk collegato al mio computer che funge da da server da cui gestisco tutti i file e abbiamo la copia invece sul nostro server NAS una volta fatta la copia abbiamo queste due copie prendiamo una serie di hard disk abbiamo disseminati per l'ufficio una quantità industriale di valigie ragged o d'alluminio si possono vedere lì dietro tutte valigie d'alluminio che contengono solo hard disk noi prendiamo una serie di hard disk di questo genere che sono hard disk interni sata 3,5 pollici vdred non i pro ma sono i vdred comunque da NAS e facciamo in doppia copia tutti i file quindi noi facciamo una copia di backup di tutti i file in duplice copia offline una volta fatta la copia noi stacchiamo gli hard disk e li mettiamo in queste valigie e vanno nei nostri depositi ora questo non è l'unico deposito questo è il deposito più vicino nel mio ufficio con tutti gli hard disk più recenti poi abbiamo un deposito con tantissimi altri una volta fatta questa copia di sicurezza queste duplici copie di sicurezza andiamo a liberare vado a liberare lo spazio della copia in locale sul mio computer e ne rimarrà copia almeno per un anno all'interno del NAS perché? perché durante l'anno potrebbe capitare di dover ritornare su quel progetto per qualche piccola rifinitura o perché serve un determinato file possono capitare diverse cose quindi nel caso in cui serva noi abbiamo tutto comunque sul NAS facciamo la modifica e poi facciamo ricopiamo tutti i file qui sopra passato un anno eliminiamo anche dopo aver fatto un altro controllo anche i file presenti sul nostro NAS e cosa succede che praticamente avremo soltanto le copie di backup offline almeno due ciclicamente ogni due anni noi accendiamo tutti gli hard disk controlliamo che tutti quanti funzionano in realtà essendo una copia master una copia backup ogni anno facciamo questo ciclo su una copia master o backup quindi facciamo un anno accendiamo tutti i master e li controlliamo l'anno successivo accendiamo tutti i backup e li controlliamo e così via e in questi check in realtà non abbiamo mai trovato nessun hard disk fallato o non funzionante nel caso dovessimo trovarlo semplicemente abbiamo l'altra copia da cui fare un'ulteriore terza copia per sostituire l'hard disk che è venuto a mancare insomma questo è il modo in cui noi all'interno dell'ufficio gestiamo il flusso di dati che nel mio caso specifico sono solo dati per la postproduzione di effetti visivi quindi molti più progetti molti più render abbiamo molto materiale girato ma è un materiale girato non dalle camere ma quello che ci arriva da altri laboratori di postproduzione perché sono dei file conformati quindi dei file già lavorati che comunque pesano tantissimo ma diciamo che il progetto più grande a noi occupa circa 6 tera no in realtà un pochino in più il progetto più grande a noi occupa 8 tera siamo su questa media qua sulla necessità di spazio mentre aggiungo un cappello finale io invece come faccio per youtube beh questa è una cosa naturalmente personale non utilizzo lo stesso sistema ma utilizzo degli hard disk semplici da 2 pollici e mezzo ve li lascio vedere ora non sono questi nello specifico gli hard disk che utilizzo per il backup ma sono questi sostanzialmente dato che io produco da solo i contenuti e non ne produco a quantità industriale tutto quello che giro tutti i progetti tutti gli esportati e il file che utilizzo dopo aver pubblicato dopo aver girato il video pubblicato montato e pubblicato il video prendo tutta la cartella con tutti i file all'interno ne faccio una singola copia su un hard disk da 2 pollici e mezzo in realtà è soltanto una mia mania di voler conservare tutto infatti ho tutti i girati tutti i progetti da quando ho iniziato il canale youtube e ne ho circa 5 di questi da 2 tera quindi sono arrivato a 10 tera di girato anche perché molto spesso pubblico in full hd giro comunque sempre in 4k quindi ci sono 7 volte che ho girato parecchio materiale special modo per creare ricordo dei production vlog dove ho girato tanto materiale nel tempo ho archiviato circa 120 giga di girato che per me per un video youtube sono davvero tantissimi almeno per quello che è il mio canale oggi insomma io spero che questo video sia stato interessante e vi abbia aperto la mente su quello che è il mondo della conservazione dei file del backup sul perché si fanno certe cose sul come vengono attuate i sistemi di sicurezza per conservare i propri file digitali perché se una volta si conservavano rullini cassette bobine e nastri oggi noi dobbiamo tener cura di queste cose che sono immateriali ed è molto più pericoloso perderle quindi ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video ringrazio di cuore tutti i miei ospiti che hanno raccontato la loro storia e il loro modo di archiviare i loro progetti se avete delle domande potete scrivermi qui sotto nei commenti vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto di passare a trovarmi sul mio secondo canale e di venire a trovarmi su Instagram perché è lì che do tutti gli aggiornamenti più velocemente insomma cos'altro dirvi io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video